Quando non si riesce a dimenticare, si prova a perdonare. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case. Sì, io ho perdonato, ma il perdono arriva con un certo processo, perché tante cose vengono in me. Considerate se questo è un uomo. Ho avuto una percezione. Lui, con la sua bella divisa, con il suo mitra accanto, i suoi stivali lucidissimi, aveva perso. Io, vestito di stracci, affamato e in pericolo di vita, avevo vinto, perché ero dalla parte giusta. Io non ero come il mio assassino. Meditate che questo è stato. E da quel momento... O vi si sfaccia la casa. Sono diventata... La malattia vi impedisca. Quella donna libera... I vostri nati perdano la memoria. Con cui ho convissuto fino adesso. Grazie. Grazie.